Cristian, sei contento? Sì, vero? Buon mamma? Com'è? Sei matta? Ah! I disaccenti… Puglissi, dal Paper è molto storico. Ma vedete che pagati! C'è gente che vi vende anni. Allora, io preso l'origno! Ma sono reso! Vi vogliono veramente bene i vostri amici, avere quei vestiti ci vuole coraggio, ma nello stesso tempo avere sei damigelle è capitato solo un'altra volta, quindi vuol dire che vi vogliono veramente bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.